Non ha disperato, scappa di casa, non ha più un futuro, si rovina la vita. No, invece anche lei è un esempio di come si affonda questa scelta con solidarietà, una cosa serena, che è una cosa che mi piace. E poi oltre alla componente narcisistica, di cui parlava l'istoria prima, molti lo fanno per pure edifizionismo, c'è il fatto di aver voglia di rompere lo schema della normalità. Molte mi hanno risposto così quando io ho risposto di stare qui. Nel tuo viaggio, quante ne hai scoperte che dicono, uomini anche per carità, lo fanno completamente la mia professione a quello che è la Costituzione. Sono completamente diverse, ma non è una cosa che io vorrei dire. Una cosa completamente diversa è che è una mia libera scelta quella di aver fatto la porno star. Ho dei contratti con un'attrice normale, sia con una certa soluzione che con una tv tematica in Italia. Cioè, mi avresti visto una campagna assistinistica in giro per tutte le città d'Italia. Quindi c'hanno... Allora, stiamo entrando nel vivo delle cose.